Ciao, allora tu che hai cliccato sul pulsante degli abbonamenti sei sicuramente interessato a diventare un follower di questo canale di un certo livello. Chiaramente ci sono più livelli, puoi semplicemente decidere di dare un piccolissimo contributo di pochi centesimi fino ad arrivare ad avere vantaggi personalizzati come ad esempio chiedermi di realizzare un video apposta per te. Quindi senza nessun impegno, dagli un'occhiata e verifica se ti interessa davvero.